A volte mi chiedo come sognino gli altri Sognano lentamente, sognano blu, sognano suoni, sognano immagini Mi piace sognare Un giorno mi sono chiesto se ci fosse la possibilità di controllare i sogni Ho pensato questo perché facevo tanti incubi e non mi piaceva dormire e non stare bene Ho trovato così che potevo scrivere in un quaderno i sogni che facevo Anche solo due o tre linee, tipo Ero in un campo e poi sono caduto Oppure Ho visto una tigre e un leone E così giorno dopo giorno sono arrivato a conoscermi nei sogni Ho capito per esempio che sogno sempre in estate Non c'è l'inverno nei miei sogni Quando mi addormentavo mi trovavo come in una stanza In cui potevo scegliere la direzione Scegliere l'immagine Perché alla fine si sogna in immagini E a volte mi chiedo i ciechi Che le immagini non le vedono Che cosa sognino? Che cosa sognino? Grazie a tutti.